Buonasera e benvenuti a Municipio X, la trasmissione serale, la nuova trasmissione serale di Milano All News che andrà in onda il lunedì, il mercoledì e il venerdì, sempre alle 7. Questa sera abbiamo come ospite Marco Colombo, l'ideatore di Pocket Press. Buonasera Marco. Buonasera. Allora, innanzitutto chi sei? Sono Marco Colombo, appunto, sono uno studente universitario, studio amministrazione politica pubblica in statale e ho da qualche mese lanciato questo blog con annesse pagine Facebook che è appunto Pocket Press. Che cos'è Pocket Press, quindi? Pocket Press è un sito di informazione che si articola su principalmente tre piattaforme, che è appunto un blog, pocketpress.blogspot, e due pagine social, una su Instagram, una su Facebook. Sulle pagine social cerco di portare due articoli al giorno, uno al mattino e uno al pomeriggio, mentre sul blog un articolo per adesso a settimana di approfondimento un po' più, diciamo, corposo. Esattamente cosa fai con la notizia? Allora, solitamente cerco delle notizie che vengono trattate poco o per nulla dai media tradizionali italiani, quindi testate giornalistiche, telegiornali, eccetera. Quindi ricerco principalmente su siti stranieri, potono essere la CNN o siti specifici, come South China Morning Post, per esempio, e quindi mi informo su una data notizia e la riporto. Per quanto riguarda i post sui social sono notizie brevi, perché comunque c'è un numero di caratteri limitato, quindi riporto la notizia in quei 2000 caratteri che ho a disposizione. E per quanto riguarda invece gli approfondimenti sul blog sono approfondimenti più generali, in cui cerco anche di riflettere un po' maggiormente attorno alle notizie. Hai detto che prendi delle notizie non trattate dai media tradizionali. Sì. Esattamente come identifichi i media tradizionali e quindi quali sono le notizie? Per media tradizionali intendo quelli con cui la gente si informa solitamente, quindi ad esempio prendo Repubblica, Corriere, La Stampa, eccetera. Vedo quali notizie di questa hanno avuto magari un minore eco sui social, dove secondo me la fascia di età di persona a cui mi rivolgo principalmente io, cioè i miei coetanei, si informano, perché ormai l'informazione viaggia molto più sui social, e quelle che hanno avuto meno eco sui social cerco di riportarle io, magari dandogli un tratto un po' più incentrato su alcuni aspetti. Solitamente riporto la notizia, a fine notizia faccio un breve approfondimento su una parte di questa notizia. E questo approfondimento lo vai a recuperare dove? Lo vado a recuperare o da mie conoscenze pregresse, come può essere ad esempio quando parlo di mafia, antimafia, io ho seguito un percorso universitario molto incentrato su questi temi, quindi se si parla di quello magari mi rifaccio a conoscenze mie pregresse, o sempre da altri siti esteri, solitamente. Come è nata l'idea di un approfondimento delle notizie sui social? Intanto perché appunto so abbastanza per certo che la maggior parte dei miei coetanei si informa principalmente sui social. Ho visto che c'è un vuoto a livello di certe tematiche per quanto riguarda le informazioni sui social, perché magari tirano meno di Salvini che chiude i porti o solite notizie politiche, eccetera, e quindi ho cercato, ho voluto creare questa piattaforma appunto per colmare questo vuoto, diciamo. Quindi l'anno scorso con l'università ho seguito un laboratorio di giornalismo con il professor dalla chiesa e da lì ho riscoperto, diciamo, questa mia passione per la scrittura, mi divertivo a scrivere e ho deciso di provare a applicarmi con questa iniziativa. Il colore all'interno delle tue notizie, quindi lo possiamo trovare? Quello che spinge le persone sui social a condividere l'aspetto quasi scandalistico delle notizie che vediamo attualmente? No, io cerco appunto di evitare di postare notizie che so che fanno magari facilmente like, quindi evito magari quegli argomenti che so che possono attirare le visualizzazioni, eccetera, proprio perché preferisco concentrarmi su temi che interessano a me, so che interessano anche ad altre persone, ma che magari fanno fatica ad andarseli a ritrovare, perché magari banalmente per trovare una notizia devi iniziarla a cercare su mille siti diversi, quindi cerco di concentrarle sulla mia pagina, ecco. È quasi in controtendenza rispetto alle logiche del mercato? Assolutamente sì. Quindi esattamente tu hai fatto il laboratorio con il professor dalla chiesa in statale e poi hai iniziato con questo esperimento. Com'è andato all'inizio? All'inizio l'ho fatto molto per mettermi in gioco, per provare anche semplicemente a esercitarmi, a scrivere senza dargli una forma particolare. I primi settimane c'erano giorni in cui postavo cinque notizie, giorni in cui non ne postavo, eccetera, quindi l'ho fatto proprio come se fosse un esercizio personale. Poi ho visto che stava prendendo piede, a me piaceva, c'erano delle reazioni positive, quindi ho deciso di strutturarlo meglio, quindi con due post al giorno, uno alle 11 e mezza, uno alle 18 e 30, e adesso sto anche portando avanti un approfondimento settimanale la domenica e a fine mese faccio un video in cui provo a ricapitolare quello che è successo durante il mese, però è iniziato proprio come se fosse un gioco, diciamo, proprio per sperimentarmi io, più che per puntare a un pubblico, ecco. Cominciamo a dare ai nostri spettatori un paio di coordinate. Sì. Dove ti troviamo? Su Facebook, la pagina Pocket Press, su Instagram, press.pocket, e poi sul blog, appunto, su blogspot, pocketpress.blogspot, dove appunto posto l'articolo della domenica. E quindi tu hai detto che fai un approfondimento mensile su quello che è successo in generale. Allora, no, faccio un approfondimento la domenica, in cui prendo una notizia che magari ho trattato nella settimana e cerco di trattarla in modo più ampio, più tradizionale, magari cercando anche altre notizie correlate, in modo da fornire un quadro più generale. Mentre una volta al mese faccio uscire un video in cui ricapitolo un po' quello che è successo durante il mese. Prendo le notizie principali del mese e cerco di spiegarle un po'. E come si fa questo lavoro qua, il riassunto del mese? Al riassunto del mese prendo semplicemente, so, vedo un po' quelle che sono le notizie che hanno funzionato di più, che sono interessate di più alle persone e le metto in un video con delle foto e una didascalia in cui provo a spiegarle. Solitamente ne prendo 5-6 notizie che sono successe in quel mese e le riassumo in un minuto, perché anche quello è il tempo che si ha sui social, perché su Instagram è il tempo massimo, su Facebook comunque la gente più di un minuto, un video probabilmente non lo guarderebbe, un video di questo taglio. Quindi cerco di riassumere un po' quello che è successo durante il mese un po' per sommi capi, poi comunque se la gente vuole approfondire di più ci sono tutti gli articoli del mese da andarsi a rileggere. Hai detto che tu tenti di riassumere le notizie che sono interessate di più alla gente. Sì. A livello proprio spannometrico. Quali sono le notizie che vanno per la maggiore? Sicuramente l'ambiente, quindi tutto quello che riguarda i Fridays for Future, le notizie che riguardano i cambiamenti climatici, anche lì diciamo che ho notato da parte di quelli che appunto dicevamo media tradizionali un interesse un po' a corrente alternata su questo tema, nel senso che se ne parla molto magari quando c'è Greta Thunberg che va a New York in barca a vela, poi però non se ne parla quando magari c'è un summit globale dei giovani per il clima a Lausanne, come c'è stato quest'estate che non è passato, comunque è passato molto in sortina sui media. Quindi cerco di dare una copertura più completa su questo tema e vedo che sta abbastanza funzionando per quello che ho come feedback dalle persone che mi seguono. Quello sicuramente, poi tutto quello che riguarda, anche qua l'abbiamo detto prima, mafia-antimafia e sta andando abbastanza bene anche la copertura che sto cercando di dare di quello che succede ad Hong Kong, quindi le proteste dei giovani per la democrazia ad Hong Kong. È uno dei post che ho visto oggi informandomi su di te ed era proprio Hong Kong. È atipico vedere un ragazzo di Milano, italiano, che si occupa di qualcosa di così complicato e così esotico come le proteste che durano da mesi ormai a Hong Kong. Perché proprio Hong Kong? Hong Kong perché ho iniziato a seguirle praticamente quando sono partite le proteste quattro mesi fa, un po' perché c'era un mio caro amico che era ad Hong Kong e le stava seguendo da vicino, quindi mi ha fatto un po' come se fosse un corrispondente estero. Il tuo inviato speciale. Esatto. Poi lui è tornato e io ho continuato a seguirle perché comunque ho notato che c'è stata una copertura mediatica su questo per le prime settimane. Poi è completamente sparita Hong Kong dai radar dell'informazione italiana, sta ritornando un po' adesso, che si sta alzando la tensione, però è sparita nonostante siano successe cose che reputo clamorose, forse non so, sbagliando, però ad esempio hanno occupato il Parlamento di Hong Kong, non se ne è data notizia in Italia, se occupassero il Parlamento penso in Germania sarebbe un qualcosa che coprirebbe in media per settimane. Quindi ho notato questo e ho deciso di focalizzarmi molto su quello, cercare di dare una copertura il più completa possibile ogni settimana di quello che succede perché loro la chiamano la rivoluzione dei nostri giorni ed effettivamente è un movimento molto ampio e che è riuscito a portare in piazza due milioni di persone in un solo pomeriggio, quindi che sicuramente ha un eco importante e che può portare a dei risultati tra virgolette storici per Hong Kong. Due milioni di persone, ricordiamolo, è quasi la totalità della popolazione di Milano e se scendessi in piazza probabilmente ne verremmo a sapere. Quindi tu hai deciso di scegliere questo argomento esotico perché era poco trattato dai media tradizionali. All'interno del tuo sito, del tuo blogspot, riesci a occuparti di qualsiasi cosa ignorata oppure devi anche tu cedere il fianco ad alcune notizie? Se cedo è perché è una notizia che interessa a me, banalmente. Io di solito quando cerco le notizie penso intanto a quello che interessa a me perché mi prendo forse un po' a modello di una fascia di età che è quella che va tra i 20 e i 30 anni che ha più o meno degli interessi che sono quelli. Quindi vedo se una notizia mi interessa, poi capisco che copertura ha avuto e di solito la scelgo se ha avuto una copertura bassa. Ci sono stati casi in cui ho trattato notizie che sono state trattate ampiamente come ad esempio ho parlato di Carola Rachete o un argomento che invece tratto molto spesso e che comunque viene trattato anche da altri è la situazione dei roghi negli impianti rifiuti in Lombardia perché è una situazione che comunque mi sta a cuore perché si ritorna sempre sul tema criminalità organizzata eccetera. Penso che sia un problema molto importante del nostro territorio in questo momento e mi sento di trattarlo a prescindere dalla copertura che può avere al di fuori del mio blog. Quindi di per sé tu non rispetti nessuna regola del mercato giornalistico e non sei neanche un giornalista perché sei uno studente e in realtà non hai neanche un percorso propriamente giornalistico visto che fai studio di amministrazione. Amministrazione politica pubblica, sì. E quindi in realtà non è che vada molto in tendenza con quello che è il percorso giornalistico. Però sei convinto che possa funzionare il tuo esperimento? Spero di sì, diciamo di sì. Diciamo che sto vedendo comunque in questi mesi un interesse crescente del pubblico anche a livello di interazioni con la pagina di condivisione di interesse per le notizie che posto. Quindi banalmente se all'inizio magari mettevo una notizia e la leggevano in 5 persone tra cui io adesso magari la leggo in 100 persone dopo 4 mesi. Quindi vedo che c'è un interesse crescente per queste notizie c'è un interesse per il lavoro che sto facendo e quindi cerco di portarlo avanti in questo modo al di là di poi quelle che sono le regole di Facebook, di giornalismo, eccetera. Allora io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato. Grazie a voi. E ricordiamo gli ultimi dettagli su dove trovarti così gli spettatori possono andare a controllare la tua pagina. Potete trovarla su Facebook Pocket Press su Instagram Press.Pocket e poi su Blogspot quindi PocketPress.Blogspot Ti ringrazio. Grazie a voi. Noi abbiamo finito e ci vediamo alla prossima puntata di Municipio X. A presto. Noi abbiamo finito e ci vediamo alla prossima puntata di Municipio X. Noi abbiamo finito e ci vediamo alla prossima puntata di Municipio X. Noi abbiamo finito e ci vediamo alla prossima puntata di Municipio X. Noi abbiamo finito e ci vediamo alla prossima puntata di Municipio X. Noi abbiamo finito e ci vediamo alla prossima puntata di Municipio X.